Oggi 4 novembre per celebrare il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le vetrine dei negozi di Corso Maruccino a Chieti sono state addobbate e condivise dei vari corpi militari, simboli, cimeli di un tempo passato. Il 4 novembre è il 103esimo anniversario della fine della Grande Guerra e la città di Atena partecipa anche attraverso i suoi negozi alla cerimonia di commemorazione con l'esposizione curata dalle Forze Armate e dei corpi civili e militari dello Stato. La celebrazione è stata organizzata dalla Prefettura e la manifestazione si è tenuta davanti al monumento ai caduti della Villa Comunale e alla presenza delle autorità civili e militari. Nel contempo il sindaco di Chieti, Diego Ferrara e il prefetto Armando Forgione hanno fatto il punto sulla riconversione delle caserme cittadine. Allora, le due caserme che vengono riconvertite, come forse tutti sanno, sono l'ex ospedale militare, ovvero sia la caserma Bucciante e la caserma Berardi. Per la Bucciante, della quale si è parlato con un accordo di programma alcuni anni fa, siamo a buon punto in quanto in essa saranno allocate l'archivio di Stato, la nuova biblioteca provinciale De Meis, la Pinacoteca e una facoltà probabilmente umanistica dell'università o una sede di dottorato. Pensiamo che a breve, un anno, un anno e mezzo, questa sede sarà ridata ai cittadini nella pienezza della loro funzione. Per la caserma Berardi i lavori stanno procedendo. La Berardi ci sarà il liceo scientifico, le caserme dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Alla manifestazione è presente il generale Paolo Acceto, comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Bulise, che ha letto il messaggio del ministro della Difesa, mentre il prefetto Armando Forgione è quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'omaggio viene fatto ai caduti, ma è un qualcosa che per far sentire alle generazioni che crescono che c'è stato qualcuno che prima di loro ha compiuto dei gesti importanti, anche la scelta di andare a combattere per difendere il nostro paese, per creare i presupposti per questa democrazia. Devo dire anche per onorare quelli che qui hanno lavorato per tanti anni in quelle caserme, la riconversione di quelle caserme ad uso pubblico e per il bene della cittadinanza è un impegno importante, un principio che è quello di continuare a far vivere quelle caserme che hanno dato grande lustro a questa città e farle vivere attraverso delle istituzioni pubblico, dalle scuole alla caserma dell'arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e perché no al ritorno dell'università qui in città. Onore! Vai caduti di tutte le quali!